Un'esplosione apparsa subito sospetta, quella dell'auto sulla quale viaggiavano in località Cervolaro di Limbadi, nel Vibonese, padre e figlio Francesco e Matteo Vinci, di 70 e 42 anni. In un primo tempo si era pensata all'esplosione di una bombola GPL e quindi ad una disgrazia, poi l'approfondimento delle indagini ha fatto emergere qualcosa di diverso e ben più grave. Nell'esplosione Matteo Vinci è morto sul colpo, mentre il padre è rimasto ferito in modo grave ed è stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Vibbo Valencia. La vettura su cui viaggiavano i due, una Ford Fiesta, è stata praticamente sventrata dall'esplosione di una bomba. L'ordigno, ad alto potenziale, era stato collocato, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, sotto la vettura e lo scoppio potrebbe essere stato azionato con un radiocomando. Le indagini immediatamente si sono orientate nel contesto della criminalità organizzata del piccolo centro vibonese, non nuovo ad episodi criminali. A seguito dei primi controlli, i carabinieri hanno arrestato all'imbadi con l'accusa di detenzione abusiva di arme e munizioni Domenico Di Grillo, di 71 anni, marito di Rosalia Mancuso, sorella dei capi dell'omonima cosca di Andrangheta Giuseppe, Francesco, Pantaleone e Diego. L'arresto di Di Grillo è scattato dopo che nella sua abitazione è stato trovato un fucile di provenienza illecita insieme a 46 cartucce per la stessa arma. I carabinieri stanno valutando anche la possibilità di un collegamento tra l'uccisione ieri di Matteo Vinci e la lite per motivi di interesse che la vittima e il padre ebbero nel 2014 con Rosalia Mancuso, lo stesso Di Grillo ed altri esponenti della cosca Mancuso.